Altri 20 dipendenti dell'ex Banca Etruria sulla Banco degli Imputati. La vicenda è quella relativa alla vendita delle famigerate obbligazioni subordinate diventate poi carta straccia a seguito dell'entrata in vigore del decreto salvabanche della 22 novembre 2015. È infatti arrivato il via libera al processo per truffa a loro carico che prenderà avvio il prossimo autunno. Sono stati già calendarizzati i singoli procedimenti tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Secondo l'accusa i bonda subordinati furono piazzati ad un pubblico indistinto in base ad un preciso ordine che arrivava dalla cosiddetta cabina di regia senza informare adeguatamente i clienti ed alternando in alcuni casi i profili di rischio. C'è poi invece chi esce di scena. La procura di Arezzo infatti al termine delle indagini ha notificato la richiesta di archiviazione per due dipendenti della vecchia banca Etruria. Si è tornati infine in aula anche per la banca rotta. Oggi il tribunale del riesame di Arezzo è tornato a riunirsi per decidere sul dissequestro dei beni chiesto dagli imputati per il crack colpiti dal provvedimento chiesto dal liquidatore della banca Giuseppe Santoni. Un conto salatissimo, quello presentato agli ex vertici dell'istituto di credito. Ben 116 milioni di richiesta danni tra case, ville, palazzi e terreni tutto adesso congelato a garanzia di eventuali risarcimento.